Eccoci qua con Massimo Trevisan, proprietario del primo monomarca Comprex in Veneto, precisamente a Mestra. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo una chiacchiera sul mondo dell'arredamento e di Comprex. Prima di tutto una domanda generica. Nel mondo dell'arredamento d'oggi, il design ha un valore superiore alla funzionalità o si equivalgono? Ma direi che sicuramente è al 50%, in quanto è importante sia il design che anche ovviamente la funzionalità su una cucina, specialmente sulla cucina che è comunque un laboratorio all'interno della casa, perciò chi è attento ovviamente all'estetica è comunque anche attento alla funzionalità del prodotto. Voi avete fatto una scelta ben precisa, ossia quella di aprire un monomarca. Cosa vi ha portato a questa scelta? Come mai Comprex? Quali sono i punti di forza che vi hanno fatto innamorare del brand? Sicuramente la scelta del monomarca, anche perché da parte del consumatore c'è un'attenzione alla scelta del prodotto su un centro specializzato, più che su un negozio generico, perciò l'acquirente è comunque predisposto ad entrare sempre in un centro specializzato. La scelta di Comprex? Perché comunque ha un eccezionale rapporto qualità-prezzo, perciò ci troviamo sicuramente davanti a un prodotto che ha un'estetica di livello molto alto, una qualità molto buona e comunque con un ottimo rapporto con il prezzo che ormai è importantissimo al giorno d'oggi. Perfetto, grazie mille e buon proseguimento qui ad Auro Vicina. Ciao.